Per la bonifica di Bagnoli sono necessari ancora 1 miliardo e 200 mila euro, di cui 650 milioni di euro, per la bonifica a mare. È il dato che il commissario straordinario e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha comunicato al Consiglio Comunale riunito in una seduta monotematica, convocata per riferire in aula lo stato di avanzamento dei lavori nell'area dell'exital CIDER. Un intervento per cui sono necessarie risorse aggiuntive e che sarà sul tavolo della prossima cabina di regia con il ministro per il Sud Raffaele Fitto. Si tratta della bonifica a mare più ampia mai realizzata in Europa, un tema di cui fino ad ora si è sempre discusso in questi anni, ma rispetto al quale non era mai stato presentato un progetto su come poterla fare. E proprio in virtù della particolarità della questione Manfredi ha riferito che si stanno valutando anche tecnologie alternative. Il progetto prevede l'eliminazione della colmata, che significa prendere tutta la colmata e toglierla, cosa molto complicata. E poi una bonifica che viene realizzata sia sulla spiaggia che sul sottofondo, che prevede la rimozione del sottofondo marino per una certa profondità, in maniera tale da garantire l'eliminazione degli strati superficiali. Problema spinoso sarà poi il destino delle famiglie che vivono nella zona del borgo di Bagnoli. C'è chi potrà usufruire di bonus per la ristrutturazione dell'immobile, chi invece con un incentivo potrà decidere di andare altrove. Ma cosa ne pensano i comitari? Se si vuole ripristinare e quindi liberare la costa e rendere fruibile il mare, e quindi liberarlo dalle infrastrutture adesso presenti oppure no. Chiaramente rispetto agli abitanti, in particolar modo ai residenti, non ai proprietari, c'è un discorso specifico da fare. Per quanto riguarda tutto il resto noi vogliamo la liberazione della linea di costa. Dopo la relazione all'Aula, ecco la risposta dei consiglieri comunali. Il più scettico, il consigliere Catello Maresca. Abbiamo saputo che serve, come avete anche voi sentito bene, un miliardo e duecento milioni di euro che non si sa da chi saranno messi, da chi saranno finanziati e con quali modalità. Quindi la situazione mi sembra addirittura più difficile e drammatica di quanto era 30 anni fa. Grazie. 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 Grazie.